Cosa pensa del caso Giambruno? Ce lo chiede Pinco582. Direttore, cosa pensi del caso Giambruno? Mi sembra che un piccolo episodio degno del bar sport sia nato un tale casino che oggi è diventato addirittura qualcosa di molto simile ai conflitti palestinesi, eccetera. Io sono convinto che il signor Giambruno si sia un po' comportato superficialmente e abbia fatto un po' lo spiritoso, in una maniera anche abbastanza volgare, ma tutto questo non costituisce reato e non vedo perché da un episodio così banale e marginale sia nato un casino tale che oggi occupa le pagine di tutti i giornali come se trattassi di un altro conflitto mondiale. Insomma, io sono disgustato. Ne abbiamo parlato a lungo prima con Travaglio e Lerner. C'è un po' la politica che incrocia Medesima. Seconda domanda. Da Liliana, caro direttore, cosa pensa di Marco Travaglio? Oddio! Cosa pensi di quest'uomo? Secondo me, Marco, conosco Travaglio da molti anni e ho sempre apprezzato la sua prosa che è molto brillante e che in qualche circostanza gli invidio. Poi per quanto riguarda certe posizioni che lui ha assunto, magari non mi trovo d'accordo. Ma io quando giudico un collega non guardo a queste sciocchezze delle posizioni, guardo piuttosto al risultato. Gli articoli di Travaglio io me li bevo tutte le mattine, mi piacciono. E lui sa, e lui sa, è tutto questo. Ah, ah, senti qua, senti qua direttore. Secondo lei, cosa penserebbe di lei oggi Montanelli? Beh, io Montanelli lo stimavo in modo addirittura esagerato e l'ho sempre guardato con ammirazione. Sono diventato anche suo amico, spero. Andavamo spesso a colazione insieme. Mi trovavo d'accordo quasi sempre con lui e soprattutto con i suoi articoli. Poi naturalmente è successo quel fatto un po' strano per cui io sono andato a sostituire Montanelli quando lui ha lasciato in lite con Berlusconi. Devo dire che io me la sono cavata abbastanza bene perché ho preso in mano il giornale che vendeva 115.000 copie e l'ho portato a 250.000. E questo è motivo di soddisfazione per me anche solo ricordarlo. Ecco, però... Vuoi mettere una postilla su queste cose? No, assolutamente. Credo che i numeri parlano chiaro. Montanelli rappresentava una destra minoritaria. Feltri ha rappresentato una destra maggioritaria negli anni in cui Berlusconi l'ha portata al governo con grande consenso. C'era un Berlusconi di mezzo tra i due, diciamo. Sì, ma questo è quello che ha ricordato anche Vittorio. Senti, direttore, Mariangela ti chiede vorrei semplicemente sapere come sta, come stai di salute. Beh, io ho avuto qualche problema nell'ultimo anno. Recentemente sono stato operato e l'intervento mi ha lasciato un po' indebolito dappertutto, meno che nella lingua. Grazie. 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 Grazie.